Commozione in Portogallo per la morte del patriarca emerito di Lisbona. Il cardinale José da Cruz Policarpo si è spento a 78 anni per un aneurisma che lo ha sorpreso mentre si trovava Fatima. Il premier Pedro Passos Coelho lo ha ricordato come un uomo di tolleranza e di fede al servizio della comunità e della Chiesa.